Diamo il benvenuto alla Vampira Ella in città! C'è qualcosa da fare qui? Voglio una tazza di caffè! Che coda! Novità speciale! Posso provarla? Il baule è ben chiuso! Serve uno strumento! Vermi antistress! Argilla leggera! Dividi in parti! Arrotola in un tubo! Tagli forma! Oh! Altre porzioni! Decora con i glitter! I cupcake arcobaleno sono pronti! Deliziosi! Wow! Li compro tutti! Non vedo l'ora di provarli! Oh! Ah! Chi è stato? Ops! Scusa! Non volevo! Tutto a causa di quell'unicorno! Non è l'accoglienza più calorosa! Dov'è la mia nuova casa? Non riesco a trovarla! Bella! Non arrabbiarti! Stenderemo un prato! Mario è l'operà! Misuriamo l'area! Serve un elicottero! Ah 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 ah! Che casa enorme! Wow! I sogni diventano realtà! Prepara la stampa! Forbici al lavoro! Attaccala al polistirolo! Voilà! Scegli l'albero giusto! Semplicemente perfetto! Mario ti aiuterà a scegliere un mezzo di trasporto! Diamo un'occhiata! Perfetta! Aggiungi le decorazioni! Baule, lapidi, tappetino a ragnatela! Wow! Thank you! So good! Oh! Una nuova vicina! Tu? Come può essere? Ah! Troverò un modo per vendicarmi di lei! Un pentagramma? Candele? Prendi un portacandele! Meglio è marrone! Degli scacchi magici! Ci servirà questo! Attacca la base! Melma! E cosa c'è sotto? Una stampa! Taglia le gomme! Delle piccole candele! La tavola della vendetta è pronta! Perfetto! Manca solo... Questo! L'alicadabra! Pika Pika! Pikachu? Non ho scelto te! Un altro tentativo! Giusto! Pelosini! Sapete cosa fare! Come on! Peletrasporto! Wow! Da dove venite? Ops! Che disastro! Ho un'idea! Avete fame? Buon appetito! Ben fatto! Venite con me! Mimi è riuscita a conquistare la loro fiducia! Siete tutti adorabili! Cosa? Prendi una custodia di plastica! Taglia l'eccesso! Prendi un piccolo pezzo di legno! Dividilo in tutti i cadenti! Scegli un colore! Delle mini matite! Super! Stampa un'etichetta! Attaccala! Un set Crayola per veri artisti! Vediamo! Prendo questo! Ciao! Cosa ci fai qui? Voglio fare una sorpresa alla mia amata Ella! Ho un'idea! Le farò un ritratto! Che ne dici? Wow! Originale! Cara, ecco un regalo per te! Prendi questo! Non... Non ti è piaciuto? Oh, troverò un modo per renderla felice! Gnam gnam! Biscotti! Ma siamo qui per qualcos'altro! Tira! Decora con le borchie! No, non va bene! Un cespuglio! Proprio quello che serviva! La base si trasforma in un bocciolo! Voilà! Bellissimo! Aggiungi le spine! Un cespuglio gotico! Che caldo! Devo innaffiare le rose! Il bouquet è diventato nero! So good! Il mio colore preferito! Cosa c'è della vicina? Oh, che carino! Brr, così morbido! Ne sta qualcuni! Oh, i miei fiori! Oh no! I pom pom! Oh, ci penso io! Trasformazione arcobaleno! Le mie rose! Sono meglio così! Un magico unicorno! Prendi il dettaglio soffice! Quante sorprese nella confezione! Scegli uno strumento! Tieni il manico! Meglio un arancione! Prendi in prestito un cavo! È un rullo! Apriamolo! Troppo noioso! Un po' di magia! Vernice arcobaleno! Per rallegrare le giornate uggiose! Oh! Ah! Wow! Il mio rullo! Dov'è la vernice? Eccola! È ora di mettersi al lavoro! Da dove inizierai? Devo rinfrescare il calderone! La mia vicina è a casa? Non c'è! Che tristezza! Aggiungiamo un po' di colori! Proprio qui! E lì! Wow! Bellissimo! Molto meglio! Oh! È ora di scappare! Cosa? Cos'è successo? Un rullo arcobaleno! So chi è stato! Prendi il cartone pressato! Poi la gomma a piuma! Combinali insieme! Attacca la copertina! Stampa le pagine! Legale insieme! Il libro Vicini dall'inferno è pronto per la lettura! Andiamo dalla vampira! Giornata dura! Musica? Ah, non suona! Ah, mi sdraierò! Che scomodità! O leggerò dei vecchi libri! Quindi! Au! Oh, che giornata! Che cos'è? Una nuova edizione di Vicini dall'inferno! Ah, tornerà utile! L'unicorno dorme dolcemente! Ah, ah, ah! Perfetto! Bene, vediamo cosa c'è scritto qui! Ah! Verserò della supercolla sul puff! Bisogna tendere una piccola corda! E qui ci sarà una pozzanghera! Eh, eh! È ora di cominciare! Oh, chi è? La mia vicina! Sono felice che tu mi abbia chiamata! Sai! Ops! Sono incollata! Devo inventare in fretta qualcosa per spaventarla! Cosa fare? Oh, aglio! Ai vampiri non piace, vero? Yes! Ne taglio un po'. Aiutiamo l'unicorno! Uccellino vuoi condividere? Avvolgi con l'erba secca! Argilla leggera! Modello! Troviamo qualcosa nell'astuccio! Un pennello! Attacca alla base della ghirlanda! Colora leggermente! È aglio! Attaccalo all'anello! I vampiri non sono i benvenuti qui! Grazie, Lalilu! Sarà meglio appendere velocemente la ghirlanda! Oh, sono al sicuro ora! Ora controlliamo! Ah ah! Vicina, preparati! Ah! Aglio! No! Oh! Ah ah! Ha funzionato! Pennucce! Avvolgi con il filo di ciniglia! Più erba! Collega la struttura! Attacca! Carta colorata! Un chiavistello! Una cassetta della posta da unicorno! Lettera pronta! Non c'è nessuno in giro! La lascio nella cassetta! Ancora tu! Cosa vuoi? No, no! Guarda! Una lettera! Wow! Vediamo! Pace! Ella vuole che diventiamo amiche! Sono d'accordo! Sono stanca di litigare! Un attimo! Questo è per te! Wow! Mimi è il mio preferito! Pace! Amicizia! Gelato! Ah ah ah! Oh! Quanto tempo ho dormito! Lo stomaco brontola! Ha bisogno di uno spuntino! Va nella foresta! Ti presentiamo la vampira Gloria! Ama il colore rosso! Non sorprende che anche il suo top sia fatto di quel colore! Il corsetto si chiude con il velcro! Sembra che i pantaloni non stiano bene! La vampira ha sempre ragione! Wow! Una gonna di pelle attillata sta davvero molto meglio! Le sue gambe sono ricoperte dalle calze a rete! Manca qualcosa! Proviamo ad aggiungere un coprispalle! Arriccia il tessuto nero in questo modo! Usciranno delle maniche! E possiamo fare anche un colletto di pizzo! I migliori designer di Lalilu hanno creato un outfit speciale! Completa l'outfit con uno strascico rosso e nero, un po' di pizzo e Gloria è pronta a stupire i cittadini di Lalitown! Deve catturare la sua preda! Ed ecco un coniglio! Bene! E posso mangiare anche uno scoiattolo! Quanto cibo! Ma gli animali iniziano a lanciargli dei pomodori! La vampira ne ha accidentalmente ingoiato un pezzo! Non è male! Non ferirò più gli esseri viventi! Non avrei dovuto cacciarli! D'ora in poi mangerò solo frutta e verdura sana! Dobbiamo preparare molto succo di pomodoro! Sigilla il fondo della scatola di plastica con la colla a caldo! Aggiungi le etichette! Due confezioni di succo fresco sono pronte! Prendi un piccolo pezzo di cannuccia! Premi il bordo! Aggiungi un tappo! E rimuovi l'eccesso! Un tubetto di concentrato di pomodoro è sempre facile da usare! E una bottiglia di ketchup è un bel bonus! Le bacche si trasformano in gustosi pomodori con steli verdi! Gloria ora li tiene ovunque! Dorme addirittura con le sue verdure preferite! La mia serata inizia con un bicchiere di succo di pomodoro! È delizioso! Gloria ha deciso di fare colazione nel suo bar preferito! Ci sono tanti piatti rossi lì! Ma le persone di solito scappano quando vedono un vampiro! È sangue! Mettetevi in salvo! Non sanno che quello che beve Gloria è succo di pomodoro! Ops! Avevo del succo di pomodoro in faccia! Stefani sta andando a fare un picnic! Mette in moto il suo scooter rosa e parte di corsa! Il tempo è perfetto per stare all'aperto! Diamo un po' di argilla leggera ai pasticceri! Crea tre cordicelle! Arrotolale e tagliale in piccoli marshmallow! Mmm! Quante le cornie! Metteli nei sacchetti! Aggiungi un'etichetta e decora con i fiocchi! Qualcuno farà uno spuntino delizioso! Steffi ha raggiunto il campeggio! È il posto perfetto per un picnic! Quindi posa una coperta! Mi siederò proprio qui! I suoi marshmallow preferiti stanno già iniziando a sciogliersi! Sarà più divertente con la musica! Rami secchi, venite qui! Accendiamo un fuoco! Yeeeh! Sogno da una vita di arrostire dei marshmallow! Le prelibatezze sono una cena perfetta! Probabilmente farà dei sogni luminosi! È così bello qui! Wow! Steffi sta volando su un magico unicorno tra soffici nuvole e arcobaleni! Oh! È stato un sogno bellissimo! È come se questo tessuto scintillante fosse stato creato da magici unicorni! Delinea una silhouette e ritaglia i pezzi! La tuta si adatta perfettamente! Delle strisce di finta pelle decoreranno il collo e le maniche! Delle eleganti scarpe da ginnastica con plateau sono davvero incredibili! Falle una coda di cavallo alta! Questi elastici sono l'abbinamento perfetto! Ogni unicorno ha bisogno di un corno magico! E i pompon decoreranno il suo vestito, i suoi capelli e le sue scarpe! Ci sono ali fatte di piume di carta dietro la schiena di Steffi! E un paio scintillante le fa brillare anche attraverso le nuvole! Questo unicorno ha una coda speciale composta da extension colorate con un grazioso fiocco! Steffi è irriconoscibile! Il suo nuovo look è fantastico! Questa foresta è magica! E dopo essersi svegliata, si accorge di assomigliare al suo personaggio preferito delle fiabe! Wow! Sono un unicorno! Fantastico! Vediamo cos'è quel rumore! Dopo essersi guardata intorno, Steffi vede delle persone che si allenano! Ciao, sono Anna! E io sono Steffi! Sei un atleta? Sì! E tu devi essere un unicorno? Credo di sì! Alleniamoci insieme! Così il nostro unicorno inizia a fare esercizio e la sua amica la aiuta! È ottimo per essere la tua prima volta! Ci serve dell'acqua! Questi dischi di polistirolo sono leggeri, ma andranno bene per chi ha appena iniziato ad allenarsi! Dipingili di rosso e scrivi il peso su ciascuno! Aggiungi i dischi alla barra! Posso allenare le mie dita! I pesi sono il modo perfetto per iniziare ad allenarsi! Due perline e un pezzo di stuzzicadenti diventeranno dei pesetti! I pesi vengono posizionati su un apposito supporto in base al loro peso! Scegli quello giusto per te! Prenderò questi! Non sono troppo pesanti, ma nemmeno troppo leggeri! Anche Gloria conduce uno stile di vita sano! Ciao! È un posto per allenarsi questo? Certo! Scegliamo un programma speciale per te! L'allenatore sceglie il livello di esercizi giusto per la nostra vampira! Flessioni! Fantastico! Ora esercitiamoci con la fitball! Poi facciamo i pesi! E ora l'ultimo esercizio! La panca! Iniziamo con un disco! Me ne servono di più! Così è troppo facile! Bisogna aggiungere peso gradualmente! No! Voglio più peso! Una vampira può sollevare anche il suo allenatore! Vedi? Sto andando alla grande! Sono scioccato! Oh! Ops! Dimenticavo che è pesante! Prepara i piedini per una vasca da bagno! Taglia i tappi in questo modo! Cosa sono? Zoccoli! Che creatività! Dipingi la base di bianco e gli zoccoli d'oro! Sono così carini con della pelliccia artificiale! È ora di installare la vasca! Decora il contenitore con nastri luminosi! E strasche brillano come cristalli magici! Anche i glitter arcobaleno decoreranno la vasca! Che posto comodo per rilassarsi! Dopo una giornata di allenamento, Steffi si rilassa con un bel bagno! Acqua calda, pace e tranquillità! Prepara una vasca! Il contenitore ha un aspetto migliore se è nero! Tappini d'oro al posto delle gambe! Che eleganza! Installa una cannuccia come rubinetto! Anche le manopole sono d'oro! Crea un tavolo di sisal scintillante! Gloria fa sempre il bagno dopo essere andata in palestra! Che cosa? Non c'è l'acqua? All'improvviso le viene una grande idea! Perché non riempire la vasca di succo di pomodoro? Ne sono rimasti un po'! Ne prendo altri! Una scatola dovrebbe essere sufficiente! Ho bisogno di più succo! Dovrò spremerlo! Danza del pomodoro! Yeee! La vampira sta bevendo il suo cocktail preferito! Un pomodor Mary! Il succo di pomodoro è molto più saporito con un po' di sale! Il bagno sarà migliore in questo modo! Versa sale vulcanico, sale marino e persino sale dell'Himalaya nelle bottigliette! La presentazione è molto importante! Etichette, fiocchi e tappi! Ogni dettaglio è perfetto! Gloria ha scelto personalmente i sali giusti! Di sicuro adora fare il bagno! La vampira ha deciso di rilassarsi dopo essere andata in palestra! Mi ero quasi dimenticata del sale marino! Aggiungiamone un po'! Oh, sta succedendo qualcosa al succo di pomodoro! Questo piccolo vulcano sta per eruttare! Oh, è andato tutto bene! Chi è la più bella del mondo? Oh, sembra che ci siano troppi pomodori! Mi sto trasformando in un pomodoro! Scrivi la ricetta per fare una bomba da bagno! Bicarbonato, acido citrico e colorante alimentare! Riempi uno stampo in silicone! Ci servono più glitter! Che belli! Metti i piccoli cuori nei sacchetti! Il nostro unicorno ama prendersi cura di sé! Steffi ha molte bombe da bagno! Le mie preferite sono i cuori di fragola! Solo una non basta! Più bombe da bagno significano più schiuma! La mia pelle è luminosa! I miei muscoli sono rilassati! È perfetto! Eloisa, ehi, svegliati dormigliona! Oh, dove sono? Ovviamente, sull'alilu! La nostra bambola è in dolce attesa! Ecco il suo pancione! Mettiamole un body! Ora pensiamo alle scarpe! Forse questi stivali? Ah, la zeppa è troppo alta! Cosa ne pensi di questi? No! La terza volta è quella giusta! Il tessuto rosso si trasforma in una longette! Crea un'imbracatura con delle strisce di pelle artificiale! Dietro di lei scorre un mantello! La bella Eloisa è la discendente di un antico clan di vampiri! Oh, sono così stanca! Ho bisogno di rilassarmi! Lo so, farò un bagno scintillante! Eloisa si toglie il mantello e fa il bagno! Aggiungerò i sali rilassanti! Oh, guarda queste bolle rosse! L'acqua è perfetta! La vampira entra nella vasca, poi, all'improvviso ha una strana nuova sensazione! Oh! Cosa succederà? E poi appare una coppia di meravigliosi cuccioli di vampiro! I miei bellissimi bambini hanno scelto il momento giusto per nascere! Marley vive in un mondo meraviglioso pieno di arcobaleni e sole! Spero che i miei figli si divertiranno quanto me! E ora facciamo il bagno! Wow, quante bolle! Devo comprare più schiuma! Il gattino Lulu sta giocando! Gli è permesso fare tutto! Marley, è ora di cambiarsi! Ti piace questa stoffa? Mi piacciono i colori! Allora adorerai questa gonna pastello! Decora l'abito con una cintura gialla! E gli arcobaleni decorativi tra i capelli sembrano delle orecchie carine! Disegna un arcobaleno sopra le nuvole sulla pancia! Marley continua a pattinare anche se è incinta! È una professionista del pattinaggio a rotelle! Marley è andata al parco per godersi il bel tempo! Ma il sole è troppo forte! È meglio ripararsi sotto un ombrello arcobaleno! Oh, fa caldissimo! Ho voglia di mangiare un gelato! Appare un vassoio con il gelato! E poi un carrellino di gelati! È magia! Marley prende un cono e si siede per godersi il suo snack! Oh, mi piacerebbe aggiungere più colore alla mia giornata! Snap! La panchina normale è diventata rosa! Wow! Mi piacerebbe anche avere un dondolo! Wow, doppio divertimento! Grande! La magia dell'arcobaleno continua a migliorare il mio umore! Ecco i modelli di cui abbiamo bisogno! Due neri e un paio rossi! Mettili in un barattolo magico! Agita! E voilà! Abbiamo realizzato due tutine! I bambini sono adorabili! Incolla le strisce sulle gambe! E i pipistrelli sulle spalle si sono trasformati in lunghe mantelle con magici inserti di pizzo! Questi sono gli affascinanti eredi della dinastia dei vampiri! La nascita dei bambini è motivo di festa! I migliori amici sono già qui! Giochi, sei venuta! Non me lo sarei mai perso! Siediti e goditi il tuo drink! Ed ecco Zombo Lisa! Sono felice di vederti! Bene, ci sono tutti! È ora di festeggiare! Oh, sono adorabili! Hanno preso dalla mamma! È ora di aprire i regali! Cos'è? Wow, che bel sonaglino! Lo adoreranno! Apriamo il prossimo! Wow, dei piccoli vestitini! Che carini! Proviamoli! Che fantastico regalo! Vi amo ragazze, grazie! Riempi il tappo di una mini bottiglia con il latte in polvere. Attacca un'etichetta Nestlé! È meglio fare scorta! Modella le tettarelle sul biberon! Copri con lo smalto brillante! I tappi rosa e blu con gli adesivi mostreranno di chi è il biberon! Nella cameretta c'è un'atmosfera speciale! Marley pensa che oggi sarà un giorno speciale! Mi piacerebbe vedere i miei bambini giocare! E sul letto compaiono due bei bambini! Sì! Sono mamma! Oh, da cosa dovrei iniziare? Sono preoccupata! È vero, devo darvi da mangiare! Ecco, prendete i vostri biberon! L'unicorno arcobaleno porta del latte! Il pianto si è fermato! I bambini non possono dire di no a una cena gustosa! Fai una molla! Cosa diventerà? Disegna gli occhi e fissa gli anelli in alto! Appendili alla molla! Fanno un suono così bello! Questo sonaglino è il migliore! Si sentono i bambini che piangono in tutto il castello! Che cos'è quel casino? Cos'è successo? Oh, qui, qui! Ehi, dove vai? Torna indietro! Straiti e riposati un po'! Ho un'idea, vi piacerà! Guardate che bel sonaglino! I bambini vengono distratti dal suono e si dimenticano di piangere! Ora la mamma può tornare al lavoro! Un foglio di gomma piuma è diventato un pezzo per fare il pannolino! Dipingilo con i colori dell'arcobaleno! Questo è proprio ciò che serve per i bambini! Metti insieme una custodia di gomma piuma! Ecco un intero pacchetto! Al posto di una maniglia è apparso un arcobaleno! Anche i pannolini sono nello stile di Marley! Abbiamo trascorso una giornata divertente ma impegnativa! È ora di andare a dormire! La mamma sta leggendo ad alta voce dei racconti polizieschi! Cos'è quell'odore? È ora che qualcuno cambi il pannolino! Gattino, hai visto dove ho messo il pacco? Miau! Lulu lo fa cadere a terra! Oh grazie! Bambini non preoccupatevi non è affatto spaventoso! I pannolini arcobaleno vi regaleranno dei sogni colorati! Buonanotte dolcezze! E Marley spegne la luce! Monta un pezzo stampato in una piccola scatola! Un blocco di salviettine umidificate sta aspettando proprio qui! Entrate presto! Ha funzionato! Queste salviettine umidificate manterranno i bambini puliti! Eloisa sta leggendo le sue figlie delle storie spaventose prima di andare a letto! Le calma davvero! Ma da dove viene quel cattivo odore? È ora di cambiare il pannolino a qualcuno! Non puoi farlo senza una molletta sul naso! Ora sistemeremo tutto! Le salviettine umidificate renderanno tutto più semplice! Un paio di movimenti e i bambini sono puliti! Ma non le salviettine umidificate! Eliminiamole! Fatto! È un marchio vampiresco! Copri una vecchia vasca con il primer acrilico! I colori vivaci torneranno utili per pitturare! Una casa arcobaleno può avere solo una vasca vivace! Completa con delle gambe eleganti! Il tutto è scintillante e perlato! L'ora del bagnetto sarà divertente ora! I miei bambini devono rinfrescarsi! La mamma mette i bambini in acqua! Sembra che vada bene per fare il bagno! Saltate dentro la piscina di Skittles! È uno schiuma party per i più piccoli! Fare il bagno è l'attività preferita dei bambini arcobaleno! Un'oscillazione del forcone del vampiro ha dato vita ai dettagli di plastica! Le metà nere del Kinder Joy sono coperte di ragni! Usa la pittura acrilica e un pennello! Ecco le ruote! Rosa? No, il rosso è meglio! Il tessuto nero scintillante decora i lati! Il velluto farà in modo che i bambini siano a loro agio! Che eleganza! Questo passeggino da vampiri è assolutamente il meglio! Eloisa sta guardando la tv! Vediamo cos'altro c'è! Dove devo andare? Andrò dritto! Oh, è un antico castello! Wow! Andrò a vedere! La luce è accesa! I proprietari devono essere in casa! E le porte sono aperte! Wow! Ci sono un sacco di mostri qui! Wow! Devo dare un'occhiata in giro! Che hotel interessante! Non ho mai visto niente di simile! E non ho mai conosciuto una ragazza così bella! Ciao, sono Jonathan! E io sono Mavis! Credo di sapere cosa significa questa campanella! Oh, il video di Lalilu sulla Transilvania è già finito! Wow, che cos'è? Che bel passeggino! Devo averlo! La consegna dei pipistrelli è super veloce! E ancora meglio dal vivo! Ragazzi, guardate! Questo è il vostro nuovo passeggino! È comodo? Certo! Camminare di notte in città sarà fantastico ora!